benvenuti in questo video tutorial nel quale capiremo come attivare un'utenza g suite l'argomento dunque attivazione di un account chiocciola liceosansepolcro.eu perché l'account g suite è formalmente identico a un account gmail però è quello ufficiale della scuola quello cioè che termina con chiocciola liceosansepolcro.eu come ho provato a spiegare più volte in questa fase non è opportuno mescolare i propri account con quelli degli studenti ma usare tutti rigorosamente l'account della scuola ripeto chiocciola liceosansepolcro.eu innanzitutto cos'è un account g suite un account g suite possiamo immaginarlo come una chiave è una chiave d'accesso a un sistema di elementi che sono youtube drive classroom che ci possono favorire nella didattica a distanza quindi la fase di oggi è il passaggio preliminare quello che ci darà accesso proprio come una chiave a un edificio e proseguendo su questa metafora potremmo intendere l'ecosistema g suite come un vero e proprio albergo dove ci sono molte stanze ognuna delle quali serve a qualcosa la stanza youtube serve a far vedere o a creare dei video la stanza classroom simula una classe reale la stanza calendar ovviamente simula un calendario e via discorrendo quindi g suite l'utenza g suite è molto articolata noi probabilmente useremo pochi elementi però quei pochi elementi partono tutti dall'attivazione dell'account g suite la sintassi di quest'account è per tutti la stessa cognome punto nome chiocciola liceosansepolcro.eu se ci sono stati negli anni degli errori nell'attivazione ora provvederemo a correggerli ma ripeto la sintassi è sempre cognome punto nome chiocciola liceosansepolcro.eu questo vale per docenti alunni e personale ata tecnico amministrativo bene ora siamo pronti a cominciare vedremo un breve video nel quale sarà simulata l'attivazione di un account ecco il passaggio iniziale è quello di andare all'indirizzo google.it esattamente quello in cui mi trovo io ora l'importante è andare in una pagina dove non ci sia già un login attivo se per esempio qualcuno di voi ha un account gmail attivo quassù dove io sto vedendo ora accedi troverà probabilmente il suo nickname o una sua immagine per entrare nell'attivazione di un account g suite occorre essere usciti tecnicamente occorre aver fatto il logout dal proprio eventuale account il primo passaggio è cliccare su gmail come sto facendo io ecco a questo punto bisogna inserire il proprio username che come ripeto è cognome punto nome chiocciolaliceosansepolcro.eu io ho creato un'utenza fittizia che ha proprio questa sintassi che ora scrivo ecco bisogna scrivere anche chiocciolaliceosansepolcro.eu gli utenti gmail possono fare a meno di questo gli utenti g suite no a quel punto si clicca su avanti la password che ho impostato per tutti uguale è 8.0 in fila questa si chiama one time password cioè password di una sola volta perché una volta inserita il sistema ci chiederà di inventarcene un'altra di 8 caratteri ora provvedo a inserire questa password di 8.0 ecco se la vado a vedere noto gli 8.0 a quel punto clicco su avanti ecco g suite mi chiede di accettare i termini naturalmente li accetto e come vedete ora il sistema mi chiede di inventarmi una password non c'è bisogno di caratteri maiuscoli non c'è bisogno di caratteri speciali non c'è bisogno di numeri una password normale che sia però di almeno 8 caratteri ora ne inserisco una per praticità metto 1 2 3 4 5 6 7 8 password che naturalmente vi sconsiglio in quanto è estremamente usata sotto la ripeto cambia password ecco a questo punto l'account è stato creato come vedete gmail ci sta dando il benvenuto clicchiamo su avanti per avere un breve tutorial delle funzioni principali chi conosce già gmail si troverà in un ambiente molto familiare questo è lo spazio di gmail naturalmente in questa pagina con il tempo compariranno tutte le mail inviate ricevute in questo caso vedete soltanto le due mail di benvenuto che google ci invia potremmo cambiare anche l'apparenza esteriore di questa pagina ma per oggi non ci interessa brevemente per scrivere una mail bisogna andare in alta sinistra su scrivi qui ovviamente occorre mettere il l'indirizzo del destinatario e qui l'oggetto ora simulo una mail inviata a me stesso quindi scrivo cognome punto nome chiocciola liceo sansepolcro punto eu l'oggetto scrivo mail di prova nel testo scrivo semplicemente testo e clicco su invia come vedete qua su la mail è appena arrivata la mail che io ho inviata a me stesso è appena arrivata ecco con lo stesso principio potremmo inviare le mail ai nostri studenti ai nostri colleghi se io apro ecco che vedo il corpo di una mail con rispondi potrei rispondere e inviare di nuovo questo è essenzialmente il cruscotto basilare di gmail in un eventuale video potremmo vedere delle funzioni avanzate ma questo è quanto ci serve finora per utilizzare l'ecosistema google se volessimo fare il logout cioè uscire da quest'account specie nell'ipotesi di usare dei pc della scuola basterà andare in alta destra qua su cliccare dove c'è scritto g suite e cliccare su esci in questa maniera avremo fatto il logout ripeto questo tipo di operazione è comoda unicamente se lavoriamo su al contrario se lavoriamo sul nostro portatile se lavoriamo sul nostro computer fisso tablet o altro questa operazione potrebbe non essere del tutto efficace ed utile bene ora che abbiamo visto il tutorial pratico su come attivare un account sarà opportuno comunicare alla scuola alla scuola l'avvenuta attivazione di questo account solo nell'ipotesi in cui si siano riscontrati grossi problemi nel farlo si potrà richiedere una formazione in presenza a partire già dai prossimi giorni per effettuare l'operazione tuttavia consiglio di provare più volte nell'ipotesi che si trovino degli intoppi e di evitare in questo periodo per quanto possibile la richiesta di una formazione in presenza in ogni caso per quanto riguarda il supporto tecnico siamo a disposizione io onori.emiliano.liceosansepolcro.eu la professoressa cesarini.chiara.liceosansepolcro.eu e la professoressa schiattelli.sonia.liceosansepolcro.eu sia per quanto riguarda le attivazioni che più in generale per quanto riguarda quelle che possono essere problematiche tecniche connesse all'ecosistema g suite bene ci vedremo dunque in un prossimo tutorial e per ora auguro a tutti buon lavoro